Ciao a tutti e bentornati sul canale del gruppo Facebook un libro tira l'altro, ovvero il passaparola dei libri, il gruppo che sta dalla parte del lettore. Noi siamo lettori curiosi, esigenti e spesso fuori dal coro. Siamo convinti che un libro sia il miglior posto per incontrarsi e conoscersi e per questo vi invitiamo a scoprire o riscoprire insieme a noi titoli famosi, classici, talvolta di nicchia o semplicemente libri diversi dai best seller di moda. Oggi parleremo di Triste, Solitario e Final, romanzo scritto da Osvaldo Soriano nel 1973. Pur essendo stato tradotto nel 1974 dall'editore Vallecchi, l'edizione oggi in commercio è quella in Audi, tradotta da Glauco Felici, che in effetti non so se sia lo stesso traduttore anche della versione precedente. Questo romanzo molto famoso, uno dei capolavori dello scrittore argentino, prende il suo titolo da una citazione dal romanzo Il lungo addio di Raymond Chandler e adesso vedremo in che modo questi due libri sono collegati. O Philip Marlowe in fase discendente riceve da Stan Laurel, ormai in pensione e quasi dimenticato, l'incarico di svolgere un'indagine a Hollywood. Attraverso le figure dell'ogoro detective, dell'anziano attore e di altri celebri nomi del cinema, talvolta citati, talvolta gustosamente parodiati, Soriano costruisce un romanzo davvero peculiare, che può apparire sconclusionato per la sua mancanza di una trama lineare, ma che diverte e avvince. Una storia che è una dichiarazione d'amore per le atmosfere del cinema degli anni 40, un commosso omaggio letterario che suggerisce riflessioni anche al di là della nostalgia, e fa vibrare la simpatia per quegli eroi sul viale del tramonto che tanta difficoltà trovano ad accettare lo spengersi delle luci della ribalta. Per dovere di cronaca va però ricordato che, riguardo alla figura di Stan Laurel, l'autore si prende molte libertà, visto che il vecchio Stan Leo non morì affatto dimenticato, ma la morte di Hardy e le precarie condizioni di salute lo avevano costretto, ormai da qualche anno, a rallentare il suo impegno nel cinema, nel quale comunque aveva mantenuto prestigio e fama. Poetico e a tratti surreale, il romanzo di Soriano presenta una galleria di simpatici perdenti, ai quali non nega mai dignità e solidarietà. Consiglio la lettura, peraltro molto agile e veloce, prima di tutto ai cinefili e poi a tutti coloro che siano alla ricerca di un titolo diverso, godibile e un po' malinconico, proprio come un vecchio film in bianco e nero. Se avete letto questo libro e volete discuterne con noi, iscrivetevi al nostro gruppo Facebook, visitate il nostro sito o seguiteci su Instagram, trovate il link nella descrizione sotto. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e di condividerlo con i vostri amici. A presto e buone letture!